Editata da Centromedia e distribuita gratuitamente, ritorna per il quinto anno la rivista Gustiamo, che è distribuita con un numero speciale in occasione del Cuscus Fest, la Kermess Gastronomica, che senza dubbio è il più grosso evento nazionale nel settore food. Nella rivista troverete il calendario dettagliato di tutti gli eventi in programma, siano essi gastronomici che di spettacolo. Fra gli articoli vi segnaliamo un articolo a firma di Diego Maggio sui vigneti della Sicilia occidentale, un interessante intervento di Giussi Galante sul mangiare vegano in Sicilia, a firma di Wally Camareri un ricordo del Borgo Marinaro prima dell'avvento del Cuscus. Angela Maria Buscaino si sofferma su una tipicità del nostro territorio, il melone d'inverno, è un interessante articolo sui 160 anni del faro di San Vito, una vera e propria guida completa. per vivere intensamente la manifestazione sanvitese.